video unboxing di sony xperia z3 un saluto a tutti i followers di android live.it oggi siamo in compagnia di sony xperia z3 mi verrebbe da dire finalmente perché insomma sappiamo che sony è sempre molto restio a rilasciare i sample e quindi come relazione abbiamo deciso alla fine di comprarlo e di non attendere appunto i tempi biblici di sony per il rilascio dei sample quindi oggi video unboxing poi chiaramente nei prossimi giorni andremo a fare tutte le nostre prove e chiaramente poi tra almeno una decina di giorni la nostra recensione quindi andiamo a subito aprire la scatola abbiamo subito lo z3 il nostro in colorazione colorazione bianca andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola subito abbiamo il caricabatterie da viaggio da parete con l'ingresso usb il cavetto usb micro usb per la ricarica e lo scambio dati col computer delle cuffie non non in ear di sony di buona qualità chiaramente con il telecomando per la risposta rapida e qui abbiamo una serie di manuali insomma direi abbastanza abbastanza corposi mettiamo via il tutto riprendiamo quindi facciamo fuori dal cielo fan lo z3 eccolo qui telefono che ci era già piaciuto tantissimo all'ifa di berlino in anteprima andiamo a togliere le le pellicole quindi andiamo a fare il rito della rimozione delle delle pellicole anteriore e posteriore quindi veramente un telefono che ci era veramente piaciuto subito all'ifa con questi angoli più morbidi le condizioni più strette insomma assolutamente un telefono che sono ben contento di provare ma per il momento per momento è tutto accendiamo lo intanto lo accendo quindi per il momento è tutto ci vedremo nei prossimi giorni con tutti i nostri test su sony xperia z3 un saluto da scido per android live punto it 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 Grazie per la visione!